E' il giorno dell'iscrizione del Teramo al prossimo campionato. Il segretario Antonio Parnanzone infatti è oggi a Firenze per depositare la documentazione necessaria negli uffici della Lega Pro. La società nel frattempo continua a lavorare sul mercato. E' prevista per la prossima settimana la firma dei primi sei giocatori con i quali il DS Marcello Di Giuseppe ha già trovato l'accordo, gli attaccanti Francesco Nicastro e Alfredo Donnarumma, il centrocampista Stefano Amadio e i difensori Marco Perrotta, Joao Ferretti e Bruno Martella. Si continuano a monitorare intanto anche altre piste per l'attacco e la difesa. Si cerca infatti un centrale d'esperienza da affiancare a Speranza e Caidi senza dimenticare il rebus portiere. Da definire entro lunedì la situazione dell'esterno siciliano Pierantonio Sassano che il Teramo potrebbe comunque riprendere in prestito dal Trapani. In casa L'Aquila sono giorni di attesa per quanto riguarda il mercato. Dopo i sondaggi su Ciofani, Grassi e Gessa continua in queste ore ad essere sotto la lente di ingrandimento anche il centravanti del Pisa, Rashid Arma, su cui oltre alla spalla ha messo prepotentemente gli occhi soprattutto la salernitana di Claudio Lotito. E aspettando il Consiglio federale di Lega Pro in programma entro metà luglio sono state rese note le date dei primi turni eliminatori della Coppa Italia Team edizione 2014-2015. L'Aquila esordirà con molta probabilità domenica 10 agosto. Dal secondo turno in programma domenica 17 entreranno in lizza anche i club di serie B.